Perde l'orientamento sul Monte Morrone e viene recuperato dagli uomini dei carabinieri forestali di Sulmona, coordinati dall'ispettore Roberto Tirino, protagonista della vicenda e ER, un 71enne di Sulmona, che si è allontanato di casa questa mattina, ma non è riuscito poi a ritrovare la via del ritorno. La segnalazione è arrivata sul centralino del 112, presumibilmente dalla famiglia. Dopo circa quattro ore di ricerche, l'uomo è stato recuperato in buone condizioni di salute, tant'è che non c'è stato bisogno di sottoporlo alle cure e agli accertamenti di rito. ER è stato recuperato in un sentiero poco accessibile e di elevata difficoltà nella parte superiore dell'aeremo di Celestino V. Providenziale è stato il telefono cellulare che l'uomo aveva con sé e ha permesso ai carabinieri forestali di rintracciare i 71enne per localizzare la zona. Una storia da lieto fine che fortunatamente si può raccontare. Per il Sulmonese è una mattinata da incubo, ma alla fine si è trattato solo di un brutto spavento.